è bellissima bellissima top model giovanissima pure bella bella bellissima top model salvata dall'inferno e questa bellissima top model si chiama Anja Goledzinovska probabilmente una modella polacca che però ha operato solo in Italia e conosce bene la lingua italiana bella 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 Anja Goledzinovska voi di certo la conoscete perché sembra che abbia avuto a che fare con il giro di Silvio Berlusconi con il giro di Lelemora e con tanti altri personaggi va bene come si dice del jet set ecco allora che succede io nulla sapevo di questa Anja Goledzinovska bella Giavranaventina 20 anni bella 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 come le fanciulle descritte dai poeti del dolce stinuo bella che succede che in calce al mio ultimo video che ho dedicato a Beppe Grillo in calce al mio nome è il nome di Sirio Mistico Sirio Mistico c'è un messaggio e un link io vado a vedere il link e trovo un video intitolato Anja come Anja Goledzinovska si è salvata dall'inferno e c'è questa bella ragazza bella 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 come un sogno e che parla della sua frenetica vita della sua frenetica vita nel giro di Lelemora nel giro di Silvio Berlusconi io nulla sapevo di questa ragazza qua nulla nulla sapevo l'ho guardata volentieri e quasi quasi sembra un video erotico lei racconta come si è salvata da questo giro erotico e da questo giro andando a mezzugori però intanto si vedono quelle belle scene belle belle e ripeto sembra quasi un video non un video pornografico un video erotico e ci racconta questa bella ragazza che è andata a un certo punto non ha retto più perché faceva uso di droga per tenersi su per essere all'altezza della situazione faceva un ampio uso di droga nel giro bene di cui lei faceva parte si faceva uso di droga per tenersi su probabilmente a un certo punto non ha retto più la situazione e è andata a mezzugori dice che a mezzugori è stata tanto bene e che ha deciso di non tornare più in quel giro e ha scritto anche un libro intitolato come mi sono salvata dall'inferno poi io guardando questo video ho visto che al lato sono comparsi tutti altri video che facevano riferimento alla stessa Ania Golet Zinovska e io ho trovato un video dove si parla di un certo artista sudcoreano che racconta di come Gesù lo ha accompagnato a vedere l'inferno e lì di quelle scene cari amici che se le vedesse Papa Francesco gli lancerebbe un anatema contro questi soggetti che hanno girato questi video un anatema gli mancerebbe, gli scomunicherebbe ma quanti supplizi, quanti supplizi? beh, sono già descritti nella Divina Commedia di Dante Alighieri di Dante Alighieri nell'inferno solo un sadico può immaginare può immaginare queste sofferenze per l'eternità poi è per l'eternità beh, ma io ci ho fatto recentemente il video intitolato Hitler e l'inferno Hitler e l'inferno va bene? beh, io mi meravido che si dice che siamo nel 2015 siamo molto avanzati e che circolino ancora messaggi, video messaggi video audio messaggi di questo tipo il Medioevo non siamo usciti dal Medioevo cari amici d'accordo? e io li lascio a voi senti Sirio Mistico ma che cosa c'entra quel link che mi hai mandato su questa bella Ania Golet Zinowska che è andata a Mezzugorio e poi ha scritto un libro intitolato come mi sono salvato dall'inferno cosa c'entra con il video dedicato a Beppe Grillo? ma scusa un po', ma perché mi mandi sempre questi video sull'inferno? ma quante volte te lo devo dire che Papa Francesco, il nostro grandissimo Papa Francesco ha detto che anche gli atei vanno in paradiso ma come te lo devo dire? eh? e il grande teologo cattolico Fon Baldassar Fon Baldassar ha detto che sì, l'inferno esiste ma è vuoto è vuoto eh? la vuoi finire, Sirio Mistico? la vuoi finire? come te lo devo dire? con quale megafono te lo devo dire? che il nostro grandissimo Papa Francesco ha detto che anche gli atei vanno in paradiso? eh? vabbè io di questo video su Ania Golett Zinovska ho apprezzato tantissimo le scene erotiche poi per il resto per la conversione la conversione che si è salvata dall'inferno so soltanto che ha pubblicato un libro che viene ben pubblicizzato beh, già la terza o quarta edizione e vabbè vabbè che cosa volete che vi dica, cari amici? io sto alle parole del Papa Francesco anche gli atei vanno in paradiso ah! già che ho dovuto fare questo video ricordiamo sempre ai miei telespettatori questa mia opera in cui si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato beh, se proprio un inferno ci deve essere l'inferno è su questa terra e si chiama patriarcato va bene? ok, cari amici grazie a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni